Io se proprio la rivoluzione non ce l'avevo addosso sicuramente mi sentivo protagonista di una trasformazione sociale che veniva avanti a partire dai nostri tempi e che maturava direttamente una capacità di auto-organizzazione che era foriera di tutto quello che abbiamo visto fino a quel momento innanzitutto il sistema dei partiti ma anche il sistema dei gruppi extraparlamentari con cui avevamo lavorato fianco a fianco vediamo lì il limite, il limite anche rissoso di cui parlava anche Oreste e l'impossibilità di raggiungere ovviamente degli obiettivi reali di trasformazione all'interno di quel processo che abbiamo chiamato riappropriazione sociale che postulava un avvio di iniziale contropotere allora la formazione mia che ha transitato per un attimo dentro il partito comunista del 68 come molti altri di noi Daniele Pifano viene da mani tese, immaginate il mondo cattolico altri di noi dal partito socialista ma come è un po' il magma di quell'epoca di questa nostra generazione ci siamo incontrati e formati all'interno di quella vicenda che Marx induce e introduce attraverso la teoria dei bisogni cioè dentro la teoria dei bisogni in Marx noi scopriamo l'elemento catalizzatore affinché la società, gli elementi più intelligenti o quantomeno più bisognosi sanno interpretare una modificazione dell'esistente e dentro questa modificazione dell'esistente trovano i principi della nuova società a partire da forme di auto-organizzazione che non sono consone, non sono abituali, sono diverse introducono il principio della democrazia diretta se introdurre il principio della democrazia diretta che nulla a che fare ovviamente con questi scimoniti dei 5 stelle che digitano, digitano, digitano e si fanno come dire sovraintendere digitare da chi sia ovviamente eccetera e quelli sono i risultati, etero diretti ovviamente da due signori che gli inducono di fare questo, quello e quell'altro alla faccia della democrazia diretta e delle enormi adunanze che abbiamo saputo indurre e non solamente durante il 77 ma precedentemente immaginatevi discutere con 10.000 persone, far votare 10.000 persone se non quasi costantemente 2.000-3.000 persone, non le andavamo certo a contare ma si vedevano ovviamente le braccia alzate di chi era maggioranza e di chi era minoranza per prendere sempre decisioni che ci hanno appartenuto e che oggi informano ovviamente quello che altrettanto tu Marco hai citato il confederalismo democratico, cioè la nuova rivoluzione che esiste nel mondo che è quella della Rojava e che è quella dei protagonisti combattenti kurdi perché lì dentro c'è la democrazia diretta attraverso ovviamente le formazioni che nascono dal bassissimo nascono dal condominio ma anche se lì dei condomini ce ne sono pochi diciamo dal villaggio e dal villaggio via via arrivano a tutti e tre i cantoni ma questa forza ovviamente che mantiene in sé l'auto-organizzazione e insieme l'autodifesa beh noi nel nostro piccolo l'abbiamo cominciato a praticare quando eravamo appunto giovanissimi l'abbiamo dovuta cominciare a praticare anche perché c'eravamo una scimmia addosso la scimmia dell'ostragismo di Stato quello stragismo di Stato che ci ha portato via la gioventù perché eravamo tutti 24 anni, 25 anni eccetera ci troviamo la strage della banca agricoltura ci avevamo le stragi sui treni ci avevamo i fascisti che combinati con i servizi segreti ogni giorno ne facevano una e minacciavano noi stessi singolarmente ciascuno di noi ha avuto episodi da poter raccontare e che per forza ha dovuto armarsi ha cominciato lì un armamento di base ovviamente eccetera per poter resistere non più alle chiacchiere dell'antifascismo parolaio ovviamente che veniva avanti dentro il PC, dentro l'AMPI che loro erano stati i grandi antifascisti e chi glielo negava eccetera eccetera ma che di fronte ovviamente a quello che veniva avanti loro stessi avevano indicato che Valpreta, Pinelli erano i fascisti addirittura erano i bombardieri della situazione non aveva capito nulla se non nella solita mentalità che poi viene avanti esplicitamente dopo il golpe cileno che il nemico sta a sinistra ecco in quelle vicende ovviamente nasce la necessità voi fate bene a parlare ma noi intanto quello che è l'antifascismo militante quello che è il sopravvivere alle battaglie di riappropriazione sociale che già venivano avanti all'interno dei primi anni del 1960 ma sono già consone all'interno del donno caldo eccetera beh noi la nostra parte ce l'abbiamo fatta non abbiamo rinnegato nulla se potevi ovviamente indicare la capacità di poter dare soddisfazione a chi non aveva un alloggio a chi non aveva una lira a chi aveva la necessità di curarsi eccetera lo dovevi fare con rapporti di forza veri non con le chiacchiere ovviamente eccetera intanto mettendo a disposizione i propri corpi e poi se non bastavano i corpi ovviamente i cazzotti e se non bastavano i cazzotti ovviamente qualche altra cosa perché se non era questo ma che ci stavi a fare? voglio dire ma se all'interno della fabbrica innanzitutto o della fabbrica servizi dove noi stavamo per lo più ma subito siamo andati a conoscere ovviamente l'assemblea autonoma della Fiat l'assemblea autonoma dell'Alfa della SIT Simens quella di Porto Marghera siamo stati subito fratelli a partire dalla fine del 69 inizio 70 eccetera ma se tu lì dentro rispetto al capetto che ti tormentava che non ti segnava le ore di cottimo che ti rompeva le palle in qualsiasi momento che ti impediva di piar in caffè una pausa all'interno del tornio che tu conducevi tutto il giorno ma se tu non gli mostravi mi metti i cazzotti in faccia o se non bastavano quelli non li aspettavi di fuori e gliene davi di santa ragione ma come pensate che fotevano andare avanti le lotte come pensate che potevano trovare la condizione affinché l'egualitarismo cioè il salario uguale per tutti più salario e meno orario viva la salute abbassa ovviamente tutti quelli che ci vogliono stesi schiavi spremuti come i limoni ovviamente eccetera abbiamo teorizzato e messo in pratica l'assenteismo e abbiamo convinto Fior Fior dei medici di base a farci centinaia di certificati medici per cui abbiamo indicato un'altra strada per sopravvivere da questo punto di vista e allora quando immediatamente immediatamente dalla vicenda del mondo del lavoro siamo passati e alla vicenda del mondo del lavoro ce n'è da raccontare qui i compagni qualcuno sarà ancora vivente ovviamente ma ce ne sono rimasti pochi ovviamente di quelle assemblee di cui vi ho parlato prima ma mica si stava a scherzare ma guardate che la notte si andavano a sbollonare i binari a Milano dell'Alfa Romeo quando dovevano partire le bisarche e sbollonarle significava che tu sapete dove togliere il binario e non passava oppure se invece dei binari portavano e montavano su le bisarche al primo ponte le aspettavi 4-5 molotov e allora loro capivano che era il salto della scocca capivano che bisognava venire a una contrattazione reale materiale con i lavoratori eccetera sapevano quello che ognuno voleva fare che non esagerava che metteva in campo quello che era la propria forma di autodifesa quando siamo passati alla riappropriazione sociale quando l'autoriduzione delle bollette ha avuto un significato del perché dovevamo pagare 40 volte di più quello che pagavano i parroni beh quella si è diffusa in un attimo io ricordo che sono andato a fare la prima assemblea dell'autoriduzione a Marghera e lui era il 1972 e a Marghera non solo l'assemblea autonoma ha deciso ovviamente l'autoriduzione ma il consiglio della fabbrica della Montedison decise tutto questo capite quanto entrava immediatamente in quella logica che proveniva da quella affermazione dell'autunno caldo eccetera e quando insieme a questo l'autoriduzione degli affitti che ha preso fuoco immediatamente a Venezia giusto perché me lo ricordo anche lì siamo andati subito a dare una mano tenuto conto di quella che era la grande metropoli che in cui l'autoriduzione partiva da solo mica c'era bisogno del catalizzatore organizzativo eccetera ma quando nel 74 tu che hai già fatto tutte queste sperimentazioni vedi che in un attimo cioè in 15 giorni a partire da un'occupazione dei 30 famiglie arrivi alle prime 2000 occupazioni di appartamenti e alla fine di marzo cominciata a gennaio sono 5000 gli appartamenti occupati a Roma vuol dire che tu hai colto un bisogno che tu sei l'avanguardia di quel bisogno e quel bisogno non è che lo gestisci perché sei avanguardia lo hai immediatamente ridistribuito in chi ne aveva bisogno e quel bisogno diventa immediatamente auto-organizzazione autodifesa cioè quel proletario quel sotto proletario che è venuto a fare la lotta per la casa che ha capito certi discorsi immediatamente diventa protagonista di quella lotta non è che la deve delegare a un partito che non esiste eccetera eccetera questi sono i passaggi che sono intervenuti in quella vicenda ovviamente di quegli anni 70 e che ci ha portato all'incontro con tutte le realtà del mondo dell'autonomia e dello scioglimento dei gruppi chi ha fatto prima potere operaio chi l'ha fatto dopo lotta continua eccetera pensate che nel 75 a Roma nasce una cosa impossibile l'assemblea cittadina dei comitati operai e di quartiere in cui si sciolgono lì dentro in questa forma che io ho definito soviettista perché tutti avevano parola ovviamente e non in misura della propria forza e potenza ma in una misura equalitaria erano confinati inseriti in quella struttura marxisti alienisti trotschisti anarchici autonomi ex del partito comunista del partito socialista ex democristiani eccetera cioè hanno dato vita ad una organizzazione che è durata fino al limitare del 1977 perché poi nel 77 ovviamente trova la congiunzione di questo tessuto che parte appunto dall'autunno caldo passa per il 68 in giro per le università eccetera e congiunge tutta questa vicenda per cui si può sicuramente definire poi quel movimento che dura sicuramente un anno e poi coglie tant'altro e altri obiettivi successivamente un modo rivoluzionario perché perché la dedica di quei protagonisti che sono migliaia è una dedica quotidiana ciascuno di noi andava a lavorare per mangiare ciascuno di noi andava a studiare perché non voleva tradire il mandato della propria famiglia che lo sosteneva agli esami ed erano in gran parte fuori sede per cui dovevano mangiare da soli fare i lavori più umili già a quell'epoca oppure ricevere quelle 100.000 lire che gli arrivavano da casa ma ciascuno sapeva che in qualsiasi momento in una giornata particolare vedi la giornata di lama eravamo tutti consegnati lì ma a Roma in particolare ovviamente eccetera la vicenda era il quotidiano era una vicenda in cui colui il quale ha dato poi il meglio di sé diventando anche il capo dei capi il signor Cossiga no? il signor Cossiga che non era solamente un pallido e squallido ministro degli interni non era solamente il presidente della Repubblica Italiana per volere un animo del PC e della DC dell'epoca eletto al primo voto voglio dire c'è uno schifo una cosa ignobile che non si era mai vista fino a quel momento ma era il capo della Gladio cioè era il capo di un'organizzazione secreta clandestina che doveva fare la caccia ai comunisti ai comunisti innanzitutto quelli veri tipo noi voglio dire eccetera e poi ovviamente anche a quelli falsi perché tanto avevano ripudiato di per sé di andare al governo anche se avessero preso il 51% bene in quelle condizioni loro hanno creato l'accelerazione noi a quell'accelerazione siamo stati dietro non ci siamo tirati indietro non abbiamo fatto gli opportunisti come spesso abbiamo visto ovviamente nei moti della storia in cui ognuno si ritira prima del tempo dando per sconfitto a prescindere che ci sta una storia che è insopportabile certo che era insopportabile se dobbiamo pensare alla dicotomia sulla le armi della critica e la critica delle armi sulla critica delle armi noi eravamo una caccola ovviamente c'era un armamento leggero che poteva significare appunto l'autodifesa che partiva dalle bottiglie Molotov per arrivare alle pistole a qualche altra cosa per l'autodifesa eccetera ma di fronte ai cararmati che per la prima volta io e gli altri compagni noi vediamo il pomeriggio del 17 febbraio dopo che abbiamo cacciato lama dall'università ma quelli della mia precedente generazione li avevano visti solamente nel luglio 60 a Roma oppure a Genova non li avevano visti da nessuna parte noi per la prima volta vediamo i cararmati poi li scoprono pure Bologna all'indomani ovviamente dell'assassino di Francesco Lorusso cioè tu ti prendi una responsabilità impari perché hai ancora un mordente fondamentale hai ancora migliaia 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 di giovani proletariato giovanile l'abbiamo definito hai una quantità inusitata di proletari del mondo del lavoro hai i proletari dei quartieri anche i sottoproletari che non ce la fanno più a sopportare ovviamente le angherie e il peso della indifferenza della borghesia nei confronti dei loro bisogni e dentro questo quadro allora la resistenza si è potuta sviluppare e guardate bene si è parlato spesso di Roma di Bologna poi abbiamo aggiunto Milano abbiamo aggiunto Padova ma io ho fatto anche l'indagine generale in tutti questi 40 anni ma c'è stato un 77 meraviglioso fino al settembre del 1977 a Bari che ha fatto come dire faville ha fatto come dire mettere il pepe nel culo a tutta la borghesia barese e anche i fascisti tant'è che uccidono Benedetto Pedrone all'indomani di novembre ma c'è stato un 77 a Palermo enorme anzi l'innesco del 77 non è Roma con il tentativo dei fascisti di uccidere Guido Bellachioma all'università ma è a Palermo dove a Palermo c'è la cellula più importante del nazifascismo c'è Concutelli che andava in giro nelle università e nei luoghi dove i compagni si riunivano c'avevano già le mitragliette voglio dire e si vantavano e lì i compagni hanno avuto la capacità di stare alla loro altezza è una dimensione che ha avuto la capacità di avere l'indicazione a partire dal fatto che le battaglie sono auto-organizzate sono anti-istituzionali sono autodifese e postulano sicuramente un nuovo modello di società grazie a tutti